Sì, innanzitutto anch'io ringrazio la Polizia Locale, il Comandante Accillotti, il Dottor Cardilli e tutti quelli, come la Vicepresidente Seccia, che hanno collaborato a quello che si pone come un regolamento fondamentale per riportare ordine in Roma Capitale. È chiaro che questo dovrebbe essere un impegno di tutti, maggioranza e opposizione, portare al rispetto delle regole e questo non riguarda sicuramente poi i compiti gravosi della Polizia Locale. Questo riguarda anche poi l'aiuto che le altre forze di Polizia, come il Ministero dell'Interno, potranno rivestire nell'aiutare Roma Capitale veramente in questo compito, perché non si può pensare che in situazioni forti di illegalità debba intervenire solamente la Polizia Locale, però questo è un altro discorso. Ho fatto grande difficoltà nel seguire e trovare un filologico nell'intervento del Consigliere Figliomeni. Sicuramente mi aspettavo qualcosa di più ficcante, di qualcosa di più utile, che magari vedremo poi negli emendamenti dell'opposizione, si spera. Ricordo al Consigliere Figliomeni e a tutte le opposizioni che questo non è un regolamento, anche se la Presidente Seccia ci ha lavorato approfonditamente, un regolamento di iniziativa consigliare. Quindi noi siamo qui a collaborare come maggioranza, la stessa collaborazione la vorremmo vedere dalle opposizioni, nella migliorare quello che dovrebbe essere una cosa che sta a cuore di tutti i cittadini, non solo dei consiglieri. Ora abbiamo questa possibilità, la possibilità di garantire salute, decoro e rispetto delle regole. Penso che nessun consigliere qui sia contrario a questi principi. Penso che siamo qui affinché questi principi vengano portati avanti e per trovare i modi più efficaci affinché l'abusivismo commerciale, come tante altre situazioni, vengano risolti il prima possibile. Noi chiederemo la stessa collaborazione a tutti gli altri livelli istituzionali perché anche il Governo deve darci una mano a tutelare quei principi che il regolamento, ma anche altri regolamenti di capitale e le leggi devono portare a rispettare. Quindi a trovare l'equilibrio nella salute dei cittadini e nell'esercizio delle attività lavorative da parte di tutti quei soggetti che lavorano nella città di Roma o che la abitano i residenti. È sempre più difficile trovare questo equilibrio, ma è il nostro compito ed è quello che abbiamo cercato di tradurre noi consiglieri e penso anche la Polizia Locale in questo regolamento. e credo che il risultato sia molto buono e credo che tutti noi dovremmo giocare di questo. Grazie a tutti.